L'oro alle Olimpiadi Italiane di Fisica che si sono svolte dal 10 al 13 aprile scorso a Senigallia lo ha conquistato uno studente del liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli sezione classica Mattia Rundine. Questo risultato darà la possibilità al giovane cilentano di partecipare ad una settimana di formazione nella città di Trieste nel mese di maggio. Il talentuoso diciottenne che frequenta la quinta A del liceo classico non è nuovo a questi successi essendosi già giudicato tra gli altri il premio Caglianiello e la medaglia d'argento lo scorso anno nella fase finale della 32esima edizione della prestigiosa manifestazione nazionale. Quest'anno circa 800 sono stati gli istituti scolastici che hanno partecipato alle Olimpiadi di Fisica, commossi i genitori Carmine e Alessandra che con grande emozione hanno seguito da lontano tutte le fasi di Mattia. Soddisfazione è stata espressa anche dall'intero istituto scolastico, sicuramente un'eccellenza di liceo Gatto retto dal dirigente scolastico Fortunato Ricco e della nostra città fanno sapere, dopo l'importante traguardo, ad Maiora e congratulazioni vivissime ai genitori. Si conclude dunque Senigallia 2019, gara nazionale delle Olimpiadi di Fisica. Sono successe molte cose, ci sono state molte difficoltà. A dichiararlo è proprio il campione Mattia, sul suo profilo Facebook. Però, ecco, è successo davvero e mica male, devo dire. Non solo questo, ma addirittura da qualche parte tra i primi cinque in assoluto, ossia mi ritrovo automaticamente a fare parte della squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi Europee della Fisica. Troppa roba insieme, non avendo decisamente questo in testa o meglio l'oro, era una bella speranza, ma alle Olimpiadi Europee della Fisica, proprio no. Si finisce di nuovo a Trieste, poi che bello. Sono successe molte cose, conclude Mattia, ci sono state molte difficoltà, ma alla fine ovviamente si conclude. Sto ricevendo un sacco di complimenti e ringrazio tutti di cuore.